Signori miei, benvenuti e bentornati su una fantastica puntata di Marvel Avengers Siamo nella seconda puntata, l'ultima volta gli Avengers erano stati definiti, fuori legge no però quasi, fuori legge no ma quasi Questa qua stiamo penso sia la ragazza della prima puntata, super fan che sta guardando qualcosa, sta cercando gli Avengers Guardate quanto è fatto bene sto coso qua, forse è cresciuto un pelo vero? Tre anni dopo si Attenzione E' ossessionata praticamente Resterà molto delusa se non ci andrai Hai ragione Ci penserò Bene Molto bene Molto bene Ci sarà il gelato Meglio ancora niente ragazzi, solo divertimento Ti voglio bene E io di più Per poco non vi è un infarto Spero che adesso l'audio sia giusto ragazzi Per ora un giochino interessante, se i giochi del genere si chiamano giochini Dove eravamo? Dove eravamo? Suggerimento password Il primo amore Mmm Oh Cosa? 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 Aia Devo trovare Forza, non c'è per riuscire Il primo amore Oh giusto Aia Il primo amore Il primo amore La cameretta così piacerebbe anche a me, eh Una cameretta così Non ci credo Non ci credo Non può essere I am Iron Man Si va be Oh mio dio sono dentro Sono dentro Non ci credo Si Eh Copiare Copiare tutto Oh Si Copiare Copiare tutto Sia benedetto l'ego smisurato di Tony Stark Aia Si gli sta sciogliendo tutto Però forse Ma ho copiato qualcosa lo so Vedrò al quartiere generale Quartiere generale Che cazzo vuol dire Quartiere generale Chi è questa qua? Ho sollevato un bel vespaio Devo andare al quartiere generale e scoprire cosa c'è su questa chiave Fai col parkour Si e chi è questa qua? Oh Nuova normalità Vai al quartiere generale di Kamala Ah per arampicarti Ah ma Ah ma ha dei poteri questa cosa? Da quando? Scusate Scusate Da quando ha dei poteri questa qua? Scusatemi No Da Quei tostapane volanti sono ovunque Cos'è? Ah ho trovato un fumetto Scusate Da quando è che ha i poteri questa qua? So che hanno creato dei nuovi Dei nuovi Scusate Ehm Non segna Ehi Captain Marvel Grazie per l'allenamento di trasformazione Uh ora qua Ehm Vai 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 Quindi lei ha dei poteri pensa a te Ehm 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 Ora mi è chi ha Vedi si allunga Beh però col fulmine lì e si vede con quartiere generale eh Non me ne vogliate Sbagliate eh Ah Il quartiere generale E' un po' un casino Ma è tutto mio E' una schifezza la zia E' una merda totale Comunque Ah Mi rimpazzirebbe se lo vedesse D'altronde mio fratello si agita per qualsiasi cosa Ehm Un pelo qui indietro Puoi scendere eh Grazie Kamala Vai indietro Eh beh Beh non è poi male male eh Invece Eh poi male male eh Eccolo il laptop Non è male male eh Questo quartiere generale La chimera? Deve essere il video di sicurezza del reattore Una roba estremamente importante allora Ma dovrebbe essere sul ponte di comando Aia Oh Cap Che succede? Che succede? Beh se è successo qualcosa eh L'ha chiuso dentro L'ha ucciso lui L'ha chiuso lì dentro Nessun malfunzionamento Ha ucciso Cap Ho già Oh mio Dio ha ucciso Cap Aia Aia Eeeh Che c'è? Oh no Oh no Ero Spark Ah Dai Ah non saprei Se fosse una trappola Sicuro è una trappola E se non lo fosse E se non lo fosse Qualcuno deve vedere il video Qualcuno deve vedere il video Devi trovare Devi trovare Tony Stark Iron Man Assolutamente Usa la testa Kamala Consegna la prova E il gioco è fatto Ehm 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 Ahah Ahah Mi guardano le mani Non sapevo che tirassero fuori Un nuovo supereroe E ora si scende Ho la gamba tutta molle Ho la gamba tutta molle Attenzione Polizia Rilevata presenza di un inumano nei paraggi Ehm E' pieno Bene Ehm Forse non è stato Il massimo Eh A parte a livello di particellari È il numero uno eh I fulmini sono un po' così Però per il resto è molto molto figo E sono fatti veramente da dio No Mi dimentico che lei è un supereroe Cioè non è un supereroe È una... è un'inumana È la prima volta che vado al parco da qui Ehm Qui avanti credo Sì Voli praticamente Chissà su che altro potrebbe mentire Vola colomba bianca Vola Vai vai Tanto se cadi sei gommosa Oh Non è stato aggraziato Ma ce l'ho fatta Ok Raggiungiamo la statica Tutto distrutto Con la carta igienica Ciao Iris Park Quanto tempo Tutto rotto Io non sto qua a spulciare Tutti inumani Tutti scomparsi È questo che preoccupa davvero Abu Perchè sa che noi siamo inumano Sì Guarda quella di Hulk Ma dai Personaggio più robusto e più forte che c'è L'hanno rotto Bel paradosso Ne è passato di tempo Hmmmm Hmmmm Tigni dancer Tigni dancer Dove vai? Dove vai? Casa Davvero? Resta con noi Ehi Vuoi bere? No grazie Cosa? Sei qui per pregare? Ho solo preso una scorciatoia Tutto qui Certo Coraggio vattene da lì Ok Bell' accendino Quindi vuoi che tornino eh? Così uccideranno ancora Cosa? Attenzione No 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 Quindi cosa? Ti piacciono gli inumani? Dai ragazzi Stupidi simpatizzanti Fermi Ehi va tutto bene Candelina o una amichetta? Attenzione Zack Guarda la borsa Cosa c'è? Che problema avete? Voglio solo andare a casa Ok? Ma che cosa fai? Il mio fratellino si trovava all'atee Ah ok Cap non c'entra niente Invece c'entra e come? È diventato un mostro viola E poi l'hanno portato via Zack Basta E poi è morto Basta È morto Brava Indietro È una di loro Non fatevi toccare Scappiamo Madonna Le mani enormi Forza andiamo via Non mi toccare Cosa? Sei tanny dancer no? Che cosa devo fare? Di che cosa parli? Ti prego lasciami andare Era tutto architettato Era una trappola Era una trappola Un trappolone Senza farti vedere Su quel muro ci sarà anche la mia foto Senza farmi vedere questa è una roba non proprio Direi che non posso andare di là Eh vabbè Potremmo anche combattere eh Potremmo anche combattere dal mio punto di vista eh Posso indebolire l'eroe Posso indebolire l'eroe Dicendo la forza e lo attacchi Aia Eh sì Nascondiamoci va Direi che non posso andare di là No Ah sappiamo già Sanno già chi è Chi sono Non deve essere difficile come parte eh Sono ovunque Potrò tornare a casa Sanno chi sono Ok Eh Vai così Sì Allora Allora Che cosa è successo? Che cosa è successo? Eh va Lagga Cosa urli? Cosa gridi? Ok Eh Eh Spero che non sappiano nuotare Ah che schifo Ok Sono proprio fogne queste Cammina, cammina Cammina veloce, zia Mi che posto Rende bene l'idea Oddio Beh, però dai, sono fogne naturali Cioè, non è cacca, penso Chi è? Quella è una persona, non è... Beh, c'è di tutto, ci sono dei pesci anche Mi stanno venendo fino a qua, stanno venendo Uh, tagliano per venire a prendermi Eh, sono qua sotto Si stanno aprendo la strada Allora scendete la sua Su Sto per avere compagnia Non immaginavo che avrei Che è sta roba? Spingendo cassonetti dell'immondizia Oh, la madonna Chi è? Degli inumane? Ecco, quello è una cosa che io vorrei avere Un potere che penso che molti vorrebbero avere Ah beh, eh beh Dei miei poteri è questa qua Non è una merda, eh Non è una merda, no? Direi Via libera, pare Non riusciamo a passare in mezzo alle fessure? Ci catturano sicuro, ci catturano Al cento per cento Eh, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Lo sapevo che finiva male Lo sapevo È comunque un problema Aia Ah, bene Sei sveglia? Tarleton Sono dispiaciuto I sintoidi stavano solamente Sì, guarda chi c'è Rubare informazioni riservate È un crimine grave Monica Dalle tregua Ehi, che succede? Dove mi state portando? In un posto più sicuro Perdonami So di non essere come la mia controparte olografica Ah, questo qua è lui Pensa te Ma è un bel trucco per gli azionisti È malato Ma penso a te come è diventato In persona Perché hai violato i nostri server? Io non ho rubato niente E allora cosa cercavi? La cura, forse Oh la madame Lo scopo dell'AIM è soltanto quello di liberarci dalla nostra dipendenza dai potenti Un potere soggettivo Un potere illimitato e pericoloso Direi che è letale Lei dèi ne è un chiaro esempio Tu sei fortunata ad essere viva Ma con la tecnologia Potremmo rimediare ai torti subiti Così potremmo restituirti una vita normale Ma è sereno lo vuole? E ho solo indovinato una password Ok? Io non pensavo di accedere Lei è chiaramente violenta La sua infezione sta peggiorando Cosa? Non volevo far male a nessuno Certo che no Ma se dovessi perdere il controllo Perfino gli Avengers soffrono per la loro arroganza E quindi? Ehi, tu eri lì Cioè, quando K è morto Eri presente? Sì Per fortuna Monica mi ha trovato sul ponte La sua formula rigenerativa mi ha salvato Ah, lui è diventato, vedete, un inumano Grazie a... La idea Lascia che la IM ti aiuti Correrò ai miei rischi Dannazione, George Prendetela Subito Aia E infatti Kamala Che cosa pensavi, eh? Di unirti alla resistenza Di diventare un'eroina Se tornassi a casa Ammi e Abu Verrebbero puniti per avermi nascosta È un vero disastro È una grana enorme, zia È una grana enorme Dai La vecchia base SHIELD La resistenza saprà cosa fare Sì È ora di correre Grazie Grazie Siamo un metro e sessantadue Pesiamo cinquantasette chili Eh vabbè Eh vabbè è andata È andata perché non vedo molto in queste parti qua Che cosa fare Lo vedi troppo all'ultimo Forse dovevo combattere contro quello lì Corro No è sti cosi Jesus Christ Ok Ok Corri Corri Si combatte No mi hanno preso Perché? Pensavo che fosse una cutscene Come mai? Ma non mi hanno preso Dai Ah beh Ah certo Devo andarmi di qua Eh vai a fare il Hoover Pure tu Dai Esagerata la zia Allungati un po' Non scappare Ninja Ah è ninja Kamala Khan Fermati Non credo proprio Teletrasportatrice Ok Ah ma non si allunga più di tanto Non mi sta aiutando Non mi fermerò a scoprirlo Hai capito Hai capito Ci sta aiutando forse davvero Ah beh Vabbè Dovrò fuggire dalla città con la forza Ok Proviamoci Allora Ogni eroi Possiede una barra Intrinseca Che limita La capacità La capacità Poliforma Di Miss Marvel Le permette Di modificare il proprio corpo Per evitare automaticamente Gli attacchi Dimitri con indicatore Blue Tiene il punto RT Per usare polimorfa Ma che figata Ma pensa te Pazza 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 Le legna Tollono tanta vita Tolgono Sembra che i nostri nuovi amici Abbiamo bisogno di Una mano Bè E la madò Ah già Adesso miro Che figata Che figata atomica Ma sbaglio O è fortissima Ci avete provato Ma mi sono allenata Per questo Sbaglio O è veramente Ma è fortissima Lei E E Sì Ah Boh è finito Ok Beh beh È andata abbastanza bene Secondo me È andata molto bene Io però da qua signori Direi che l'appuntamento di oggi Può finire Qui ci vediamo al prossimo video Ci cacciamo Ci cacciamo Ci cacciamo